Sono invecchiato in questo mondo e ci sono quattro cose che ho imparato e che non dovresti mai fare nella vita. 1. Non fidarti mai ciecamente di nessuno. 2. Non condividere mai i tuoi segreti e le tue debolezze con nessuno. Non sai mai chi li userà contro di te. Sii consapevole. 3. Non trascurare mai la tua famiglia per i tuoi amici. Alla fine resterà solo la tua famiglia. 4. Non aspettarti mai troppo. Le aspettative possono spezzarti il cuore. È il modo più veloce per arrivare alla delusione.